ciao ragazzi allora video velocissimo per dire una cosa stamattina io ho pubblicato un video sul canale dove informavo per delle per delle cambiamenti sul mio canale vale ci sono dei commenti questi commenti sono si sono degenerati in una discussione abbastanza accesa vabbè questa cosa non va ragazzi i panni sporchi si lavano a casa propria non sul canale degli altri questo non vuol dire io prendo le parti di chi e di chi io non non voglio essere in mezzo in questa storia vedetevelo a voi niente ragazzi voglio fare questo video per dirvi questo i panni sporchi si lavano a casa propria e non degli altri ha ovviamente quel video verrà reso privato perché non mi va